Allora, capito? Bisogna indovinare la frase cancellata. Via con il telefono. Pronto? Una birra tira l'altra. Molto arguta, ma non è questa. Grazie. Pronto, ci dica. Cielo a pecorelle, birra a catinelle. Intelligente, ma non è questa. Pronto. Nel dubbio bevi birra. È carina, ma non è questa. Pronto, ci dica. Mangiare con la birra è mangiare da re. Verissimo, ma non è questo. Pronto, ci dica. L'apparenza inganna la birra, no. È intelligente, ma non è questa. Pronto, ci dica. Birra tucca e birro anch'io. Molto pop, ma non è questa. Pronto? Com'è? La birra porta consiglio. Molto carina, ma non è questa. Ci dica. Birra con i tuoi... Ripeta un po'. Natale con i tuoi, birra con chi vuoi. È familiare, ma non è questa. Complimenti, ma niente di fatto. Stop al tempo. Comunque, io e i produttori italiani birra vi ringraziamo. Andiamo a scoprire la frase richiesta, che è invece... Birra! E sai cosa bevi?